ok finalmente sono riuscito a rompere quella ragnatela lì dopo tre ore di gameplay abbiamo il primo blocco di lana avemus lana ok cibo per farmi un arco mi serve la stringa però la stringa mi serve anche per fare la lana e la lana è la priorità io proverei però banshee permettendo oh cazzo ho visto eh sì guarda guarda non scende di vita è tipo immortale cazzo ok stanno spawnando delle vespe le vespe non so se sono alleate o meno no è no è non dirmi che mi sono scavato la fossa da solo sono un coglione sono sono un coglione non mi ha troppato un cazzo beccala è morto ma perché non mi troppa un cazzo allora io faccio così guarda lo metto qui se spawnano tu le ammazzi ok eccole oh allora l'attacchio no ottimo ottimo vai resta lì allora praticamente quelli lì sono considerati mob dall'inferno al mobs quindi sono op anche quelle possono avere diversi effetti la c'è una strega che mi fa il culo sicuramente merda è vero che ci sono le api in casa adesso devo trovare il mondo di portare le rane dentro casa ma sono da spawnate che culo ottimo ottimo c'è uno scheletro aia perfetto qui c'è una caverna che porta giù e qua non si sa oh cazzo c'è una banshee no 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 qui ci muoio guarda lì due addirittura ce ne sono vaffan culo cazzo mi ha sparato oh c'è qualcosa che mi via via cosa c'ho addosso non c'ho nulla non so c'è qualcosa di over power riusciamo a farci la coltivazione di funghi almeno c'abbiamo una zuppa vai ho altre due stringhe oh che si sono bloccate con le due la vai oh ne ho persa una è stata ammazzata dalle pespe perché la vostra amica qua si perde in chiacchiere a posto eeeh merda procreata intanto ok faccio una stanzina qui a sto punto ecco alla vedi cosa succede madonna appena c'è un arco guarda tutti li faccio fuori vado vado a caccia di quelli beh queste lenti eh uno e una due vediamo cosa succede oh un mini rospino pronta eeeh un cazzo fatto entrare questa chi ha passato attraverso i blocchi eh calla che mi ha dato fuoco eh calla che mi ha dato fuoco chi è sta roba surprise motherfu chi ha il spider un ragno che esce dal guscio praticamente e mi ha ammazzato è potentissimo mi toglie metà vita praticamente di più mi troppi anche qualcosa magari ce ne son due uia uia porca troia o se toglie oh letteralmente è venito il cibo stavo per rischiare la vita io eh un alpepita e basta mandatelo non sono ward sti mob cos'è quel ragnola rosso oh 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 easy easy man easy ottimo vai altro blocco mi chiama ancora qua questo no non ci credo mi è appena scoppiato un creeper dietro madonna di dio abbiamo il terzo blocco ladies and gentlemen we got it ah beh mousse il letto dove lo metto metto qua vaffanculo dai you only sleep at night ok il problema del letto è stato risolto ok prossimo obiettivo dobbiamo farci un arco un arco per combattere quel marco everybody dance ooh ooh clap your hands clap your hands clap your hands everybody dance everybody dance Grazie a tutti.